benvenuta tutta a tutti sul canale questo è un video veramente rivolto sia a ragazze che ragazzi insomma veramente a tutti perché è un video in cui voglio parlare della legge dell'attrazione o low attraction e pensiero positivo perché voglio fare questo video perché mi sono documentata in questo ambito già da diversi giorni da diverse settimane sia guardando dei video proprio qua su youtube come ad esempio quello di chi sei make up e di altri youtuber sia proprio documentandomi leggendo su google degli articoli e quindi ho deciso di dirvi la mia proprio perché anche io sto cercando di mettere in atto questa legge dell'attrazione questa low attraction appunto in inglese questo pensiero positivo che deve essere costantemente presente nel nostro essere nel nostro io quindi provvedete però in parole povere a descrivervi quella che è la legge dell'attrazione quindi il pensiero positivo perché non è semplicissimo io l'ho capito guardando appunto questi video e cercando di metterlo in pratica ma è più facile a farlo che a spiegarlo quindi spero di farmi capire fatemi poi sapere nei commenti cos'è praticamente la legge dell'attrazione la legge dell'attrazione è un diciamo un pensiero che noi dobbiamo avere positivo quindi attrarre a noi i pensieri positivi se sentite di là c'è anche urla le gatte che stanno facendo le pazzerelle comunque chiusa questa parentesi cos'è appunto vi stavo dicendo è avere sempre un pensiero positivo ovvero cercare di immaginare che una cosa che noi vorremmo che sia a livello materiale che sia una situazione che sia un lavoro che sia un sentimento immaginare che qualcosa succederà e avere il pensiero positivo che succederà quindi non dire eh mannaggia non mi è successa non la farò mai quella cosa non ce l'avrò mai ma dire no io ce l'avrò ce la farò avrò quella situazione avrò quel lavoro avrò quell'amore che desidero tanto avrò quella vita cioè dovete essere sempre positivi un esempio banale potrebbe essere io vado su cose materiali perché è più concreto e più facile fare esempi volete una borsa diciamo costosa una borsa di lusso ma in quel momento non potete permettervela e la vedete magari a qualcuna qualche youtuber a qualche amica qualche persona che cammina per strada non dite ah beata lei non ce l'avrò mai io quella borsa non me la posso permettere non me la permetterò mai no voi dovete dire ah guarda quella ragazza ha un Hermès che bella borsa mi piace anche a me e so che prima o poi ce l'avrò sicuramente ce l'avrò e vi immaginate nella vostra testa la scena di voi magari che siete da Hermès appunto acquistare quella borsa cioè immaginarvi già quella situazione quindi immaginarvi nel negozio che siete a lasciare la borsa magari con un'amica con la vostra mamma o semplicemente da sole e che uscite dal negozio soddisfatte con questa borsa cioè praticamente immaginare che la cosa che voi volete ci sarà e succederà proiettarvi già come se la cosa ci fosse come se già ce l'aveste e la stesse comprando o se quella situazione si stesse realizzando ad esempio parliamo di youtube non so tanti di noi vorrebbero arrivare ad avere dei canali con numeri di iscritti alti con numeri di visualizzazioni alte quindi con monetizzazioni alte come sto cercando di fare io sto cercando di dire prima dicevo ma beate loro io non ci arriverò mai invece adesso anche io sto cercando di dire proprio ah guarda ho un canale youtube sono sicura che anche il mio canale andrà comunque alla grande avrò anche i miei risultati e mi sto già proiettando come se questa cosa ci sia cioè mi sto già vedendo comunque con qualche piccolo guadagno insomma qualche soddisfazione ed è così che deve essere sto cercando di imparare a farlo e ve lo dice proprio una persona che è pessimista di natura piena di angosce di paranoie e di paure e di ansie quindi sto cercando io che sono fatta così di avere invece sempre questo pensiero positivo grazie al fatto appunto che mi sto documentando sto guardando video sto leggendo articoli perché in effetti se noi ci pensiamo se abbiamo il pensiero positivo le cose accadono e accadono più in fretta e molto più velocemente e in maniera più semplice di quello che si possa pensare se invece noi diciamo ah no vedi io la solita sfiga non mi succederà mai oppure te pareva magari non so stavate aspettando qualcosa che non è successo perché magari semplicemente si ritarderà il fatto cioè l'accadere di quel fatto ma succederà se mi invece dite vedi te pareva sapevo che non sarebbe mai successo ma non mi capiterà mai magari non so qualcuno per dire aumenta il livello di lavoro no quindi magari passa da per dire semplice commesso a caporeparto no vuoi dire ah beato lui vedi a me non capiterà mai che sfiga te pareva che succedeva a lei non a me no dovete dire ah cavolo ce l'ha fatta pensa quando io anziché essere il caporeparto sono responsabile del reparto avrò una carica più a cioè bisogna già entrare nell'ottica che quella cosa succederà ma una volta che siete entrati in quest'ottica poi non dovete avere il pensiero costante su questa cosa dovete accantonarlo quindi se voi ad esempio pensate ah ce la farò con youtube avrò anche un bel numero di iscritti di visualizzazioni e riuscirò a fare 200 euro tutti i mesi poi dovete dire ce la farò succederà basta pensiero finito tornate alle vostre cose non so a leggere un libro a guardare un foglio quello che state facendo senza più pensarci e vedrete che accadrà perché pensarci costantemente allontana anche se in maniera positiva allontana comunque la situazione quindi una volta che voi avete pensato immaginato la cosa come se già fosse accadendo basta poi smettete di pensare a quella cosa e ne pensate altre e così via scusate con la batteria scarica ok e quindi così quindi cercare di vivere sempre col pensiero positivo ad esempio volete non lo so avete visto un rossetto che vi piace tanto magari un rossetto costoso di Dior anziché dire non ce l'avrò mai costa 30 euro non me lo posso permettere ah guarda quella lì ce l'ha allora è una no dovete dire ah quella lì ce l'ha vedrai che io addirittura ne avrò due cioè andare proprio a essere positiva e dire io quella cosa ce l'avrò ne avrò anche di più anche migliori cioè sempre positivi e immaginarvi come se la situazione ci fosse c'è un video di una ragazza americana se non mi ricordo male che cita anche Kiss & Makeup nel suo video che sono andata a vedere ma non mi ricordo lei come si chiama ho messo il traduttore perché era tutto in inglese che dice che una cosa molto utile interessante che può aiutare è creare un diario però datato a un anno avanti quindi oggi siamo al 17 marzo probabilmente questo video lo vedete che è il 18 comunque supponiamo sia il 17 marzo voi dovete fare un diario datato all'anno dopo quindi oggi 17 marzo 2019 ho acquistato la mia prima Birkin Hermes cioè come se fosse all'anno dopo la cosa stesse succedendo e questo aiuterà a farle succedere le cose ad essere positivi e come se la cosa fosse già successa oppure oggi 17 marzo 2019 ho firmato il mio contratto indeterminato nell'azienda X che è magari l'azienda che stavate desiderando oppure oggi 17 marzo 2019 ho deciso la data del mio matrimonio cioè tutte queste cose positive che voi vorreste che accadano e che fate sì che siano come già accadute ma viste tra un anno poi tra un anno rivedete il vostro diario e dite ah vedi questa cosa è successa questa è successa, questa sta per accadere, ho già avuto la notizia cioè proprio in questo modo vi aiuterete col pensiero positivo e questa regge dell'attrazione a far sì che le cose che volete accadano quindi mai più pensieri negativi, mai più pensare sono sfigata perché la sfiga non esiste ogni cosa ce la creiamo noi, situazione, sentimento, tutto creiamo noi e quindi dire ah questa cosa succederà, ce la farò, ce la farò vedrete, vedrete che funziona, io lo sto provando veramente su di me da poco e devo dire la verità che qualcosina già ho visto di riscontro quindi piano piano se voi ci credete, se voi combattete, se voi siete fiduciosi, positivi vedrete che sarà tutto molto più semplice e in effetti è veramente così bisogna proprio farlo, crederci e vedrete che vi aiuterà tantissimo vi consiglio di guardare qua su youtube, proprio legge dell'attrazione pensiero positivo, vedrete un sacco di video, anche su google ci sono un sacco di articoli che vi aiuteranno comunque ad approfondire questa cosa ci sono anche dei libri da leggere, tra cui The Secret che io personalmente non ho ancora letto ma dato che mia mamma lo ha me lo faccio prestare perché voglio leggerlo perché so che è un libro che appunto spiega molto bene questa cosa della legge dell'attrazione è un libro fatto molto molto bene, lo cita Sekis e Makeup nel suo video che l'ho letto anche su google in svariati articoli appunto di questo libro di appunto intitolato The Secret, non mi ricordo il nome dell'autore però se voi cercate The Secret libro troverete tutte le informazioni e appunto lo voglio acquistare perché parla benissimo di questa cosa in modo molto approfondito e appunto mi voglio appunto informare ancora aggiornare ancora su questa cosa che appunto come vi dicevo io stessa sto cercando di attuare e portare avanti perché vi assicuro che è utilissimo, vi cambia la vita veramente anche dire ah no io sono brutta, non sono mai come quella lì ah vedi lei però ha delle belle mani, ha delle belle unghie no dovete dire ah anch'io ce la farò, ce la avrò anzi guarda domani vado proprio dell'estitista a fare la manicure pensare già come se ci foste e prenotare poi cioè e farla cadere a questa cosa vedrete, vedrete, vedrete che vi aiuterà tantissimo anche a trovare l'autostima in voi è veramente una cosa che vi cambierà la vita cioè ve lo assicuro, leggete e informatevi su questa cosa perché è molto molto utile secondo me veramente e quindi nulla, io spero che questo video vi sia piaciuto soprattutto vi sia stato utile se state cercando di documentarvi appunto su questa cosa ecco fatemi sapere qua sotto nei commenti se conoscevate già la legge della trazione se la state attuando anche voi se avete pensieri positivi, se avete dei libri da consigliarmi dei link di altri canali che hanno fatto dei video tipo il mio da consigliarmi ne sarei felicissima e nulla, io vi saluto vi ricordo come al solito se avete piacere di iscrivervi al canale ma direi che è sottinteso e mettere un like di supporto al video e nulla, io vi abbraccio tutti quanti vi mando un grosso bacione vi ricordo di condividere il mio canale perché a 2.500 iscritti ci sarà un giveaway e nulla, io vi saluto vi mando un grosso bacione e alla prossima ciao